Ciao a tutti maghi e maghi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Magic e oggi ragazzi siamo su un nuovo gioco, molto carino, penso sempre della serie di Slider.io e si chiama Blobby.io, come vedete ho già fatto qualche partita, il mio record è 1905, ero primo del server e vediamo come funziona questo gioco. Allora ragazzi, è molto carino, praticamente bisogna, vedete, arpionare gli altri e riuscire a mangiarli, diventando più grande possibile, l'importante è che la vostra punta tocchi il nemico, vediamo se lo ci ha preso, vedete, non è difficilissimo come gioco, bisogna un attimo capire la meccanica, perché la prima volta sono morto un casino di volte. Non ha audio come gioco, quindi metterò sicuramente sotto una musichetta carina, benissimo, allora il primo del server è a 504 punti, si chiama Olidana, vediamo se riusciamo a trovarlo e ucciderlo, dovrebbe essere quello lì se non mi sbaglio, vediamo esattamente lui, corriamo, boom, ucciso ragazzi, siamo quinti. Siamo quinti con quarti, con 485 punti, molto bene, leecher, leecher, uccidiamolo, paf, benissimo, ragazzi, guardate qua, cioè, è carino come gioco perché ti prende, ti prende, non è conosciutissimo, quindi voglio dire, di gente non ce n'è tantissima che gioca, però, no, 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 un'altra partita, vediamo, prendiamo questo qua, preso. Un altro trucchetto è questo, mentre loro ti arpionano, tu gli corri incontro, lo becchi con la punta e lo fai fuori, e quindi ti prendi i punti e i suoi punti. Non ho la classifica lì in alto, non so perché, stavolta non mi esce, comunque, vediamo di giocarcela bene. Ragazzi, mi ero fatto uccidere per vedere se la classifica appariva, ma non appare, come potete vedere, comunque, continuiamo. Olidiana, che è quello che abbiamo ucciso prima, bam, perfetto ragazzi. Non so se la classifica esca più avanti, no, perché me l'ha sempre data subito, magari, boh, qualche bug del gioco, effettivamente non è un gioco all'ultima, cioè, lo stanno ancora aggiornando, ecco, come posso dire. Uccidiamo Macca, da dietro, boom, perfetto ragazzi, come arpionare la gente. Prendiamo lui, ah, no, ci ha scappato Fran. Prendiamo lui, ok, benissimo ragazzi, adesso vedete, non so se io sia primo o meno, perché non riesco a... Lui è primo, ok, ora non lo è più. Quando siamo primi nel server avremo comunque la corona. Facciamo così, ah, no, è scappato, prendilo, prendilo, preso, wow, prendi lui, no. Ok, eh, c'è quello là, paff, preso ragazzi, eh, 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 mamma mia che pelo, mamma mia che pelo, oh, primi, siamo primi nel server ragazzi. Non so con quanti punti, perché giustamente non ho la classifica, ah, ci ha ucciso. Bene ragazzi, ripassa la classifica, ho provato a chiudere e riaprire l'applicazione e appunto adesso va. Allora, vediamo un po' chi troviamo subito da uccidere. È carino, è carino come gioco, ti intrattiene abbastanza, se può interessarvi, che vi piace, come vedete, vi consiglio di scaricarlo. Ah, mi ha ucciso. Potremmo comunque incontrarci nel gioco e sfidarci, ecco. Prendiamo lui, preso, preso, preso ragazzi. Prendiamo anche Killus. Quelle skin lì, le sblocchi dopo che fai un tot di uccisioni. Boom, ragazzi, mangiamo, mangiamo, guardate qua. Era gigante quello lì. Prendiamo pure lui, no. Ah, ah, ci ha preso lui, ci ha preso lui. E dicevo, non è facile giocarci, perché comunque mentre tu stai arpionando non ti puoi muovere. E quindi l'altra persona, ecco, ha la possibilità appunto di prenderti. Mentre, mentre l'arpione torna indietro, puoi iniziare a spostarti. Togliamo Whatsapp, che, come sapete, è l'ordine del giorno. Mai continua ad apparirmi. Ah, mi ha beccato. Ok, facciamo così. E proviamo a prendere subito il pupazzo di neve, che scappa. Arpionalo. No, 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 mi ha arpionato lui, mannaggia. Arpioniamo. Qua c'è il red del server, ucciso, ucciso subito, ragazzi. Benissimo, benissimo. Vediamo Legend Anarchy. Dai, uccidilo. No, ci ha ucciso lui. Ci ha ucciso lui, ragazzi. Play. Allora, facciamo ancora una partita, poi magari cambiamo gioco, eh. Che dite? Allora, vediamo. Qua non c'è in giro nessuno. Intanto noi mangiamo che facciamo punti. Siamo venticinquesimi, quindi nel server siamo in venticinque. Neanche poca gente, eh, devo dire, perché per essere un gioco poco conosciuto possiamo dire che non siamo in pochi. Siamo a ventitresimi. Ah, lui è scappato. Oh, preso. Uccidiamo lui. Preso. Benissimo. Vediamo se riusciamo ad arrivare ancora. Ok, niente. Bene, ragazzi. Passiamo all'altro gioco. Questo si chiama The Archer. Anche questo è un gioco veloce. Sono quei giochini veloci. Ma è carinissimo. Molto carino. Qua sono contro il computer. Praticamente devi riuscire, ecco, ci siamo uccisi insieme. Riproviamo. Devi riuscire a uccidere più personaggi che puoi, solo in headshot, giustamente, così. Uno. Adesso apparirà il secondo. E come vedete, vedete, è abbastanza carino. È un giochino veloce da non perdere troppo tempo. E vediamo se riusciamo a ucciderlo. Uh, prima che ci uccide lui, a quanto gli è passata? Ok, ucciso. Ah, ok. Bastano due colpi. Non c'è bisogno dell'headshot. L'ho scaricato stamattina, giusto? Ah, ci ha ucciso. Visto che non ho tantissimo tempo per fare le serie che sto portando. Headshot al primo colpo, ragazzi. Ho detto, portiamolo qualche giochino carino così sul canale. Veloce. Veloci, veloci. Ok. Uh, la gamba. Come cade, come cade? Olè. Caduto giù. Allora, headshot. No. Ah, poi lì ci uccide. Ci uccide. No. Ci uccide. Ok, ucciso, ucciso. Vediamo dove appare il quarto. Dove apparirà? In alto? Esatto. Uh, voglio una mela. Uh, l'ho preso la mela. Ah, la mela ci ridà la vita. Benissimo, ragazzi. Cioè, anche volendo non ce l'avrei mai fatta, perché l'ho proprio tirata a caso. Vorrei fare un headshot. Vediamo se riesco a fare un headshot. Dove ce l'ho posizionato? Minchia, dai in alto. Tiriamo. No, troppo basso. Tiriamo così. No, troppo in alto. Tiriamolo così. Headshot. Perfetto, ragazzi. Se avete qualche giochino carino, anche voi che giocate sul telefono, consigliatemelo, che io li provo. Vedete? Cioè, sono carini da portare così ogni tanto. Giusto per spezzare un po' anche le solite serie che porto. Oh, là. Perfetto, un altro headshot. Oh, che pelo. Questa settimana non riesco, perché sono alquanto impegnato. Ho diversi impegni. Prendiamoci la vita. Spariamogli così. Oh, no, ci uccide. Oh, uccidiamolo. Ok. E lo uccidiamo così. Questo, come sottofondo, perlomeno una musichetta ce l'ha, a differenza dell'altro. Che, oh, due. Che, oh, headshot. Che, anche l'altro è molto carino, eh, ragazzi. Non mi dispiace. Wow. Eh, vacco, si fa sempre più difficile, eh. Ok, ucciso. Quello là con la mela non la prenderò mai. Però, oh, no, ci ha ucciso, ragazzi. 13. Proviamo il multiplayer, ragazzi. Vediamo un po'. Facciamo a casuale, un opponent casuale. Ok, ragazzi. Spariamo. Headshot. Benissimo. 1-0. 1-0 subito così, ragazzi. Tocca a lui e anche lui. 1-1. Ah, ok. Quindi è un turno a testa. Ora penso che tocchi a me. Oh. Mamma mia, ragazzi. Questo qua ci uccide. Ci uccide e si... No. Che culo. Facciamo così. Opla. No, 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 ragazzi. Quasi. È carino. Il multiplayer, devo dire, che mi piace abbastanza. Ah. Non riesco a fare l'headshot, mannaggia. Adesso se lo fa lui... Se non ci fa... Ah, headshot. E sta vincendo 2-1. Non so se sia al meglio dei 3 o al meglio dei... Boh, non lo so. Qua spara... No, no, ragazzi. Troppo alto. Se così è troppo alto, facciamolo appena appena più basso, così. Opla. Ok, in gola. L'abbiamo preso proprio in gola. Sulla carotide. Wow. Facciamo così. Un pochino più basso. Spara. Ok. Ucciso. 2-2. 2-2, ragazzi. L'ho anche fatto sedere. Comodo? Sì. Allora. Tocca a lui. Ah, headshot subito, così. Vediamo se era al meglio dei 3. No. Non era al meglio dei 3. Quindi siamo a 3-2. Spara. Ok. Nel petto. Giusto, giusto. Vediamo se lui spara. Ok. Non ci ha colpito. Spara così. Ucciso. E si è seduto ancora. Gli piace stare seduto questo qua, ragazzi. Si chiama generoso. Quindi è anche abbastanza generoso. Magari ci fa pareggiare. Giusto perché è generoso. Spariamo. Gamba. Adesso lui ci prende in testa, sicuro. Sicuro come loro. E infatti, headshot. Bene, bene, bene. Siamo 4-3, ragazzi. Non mi dispiace. Mi piace. È carino come gioco. Un bel passatempo. Ok. In mezzo alle palle. Ok. Troppo in alto. Sparagli così. Ok. Ucciso. E lo facciamo sedere ancora, ragazzi. Continua a sedersi sto qui. Ok. Ora spara in testa. In testa. Headshot. Sarebbe più carino se ci cambiasse anche di posizione ogni tanto. Ecco per... Eh, infatti. Ok. 5-5. Adesso ci ha messo in mezzo un ostacolo. Ci ha messo di mezzo un ostacolo. Non sarà facile. Lui ci ha preso subito. Facciamo una cosa del genere. E... Opla. In testa. No. In gola. Quasi in testa, ragazzi. Ci ha mancato davvero, davvero poco. Vai. Spara. Ok. E vediamo se noi riusciamo a ricolpirlo. Fire. Ok. Così. Così. Oh no. Troppo, ragazzi. Troppo. Eh. Ho tirato troppo lontano. Ok. Lui ci ha mancato. Ora spariamo noi. Facciamo così. Dai la gamba. No. Quasi. Quasi. Vediamo. Lui spara e non ci colpisce. E stavolta noi, ragazzi, ce la portiamo a casa. Ha ucciso. 6 a 5. Benissimo, ragazzi. 6 a 5. Ok. Lui ha sparato proprio di merda. Spariamo noi così. Opla. Gamba. Gamba destra. E meno uno. Lui spara e niente. E noi faremo ancora così. No. Che tiro del cavolo ho fatto, ragazzi. Un tiro proprio del cavolo. Anche lui. Non scherza, eh. Così. In testa. Headshot. Perfetto. 7 a 5, ragazzi. Abbiamo recuperato tantissimo. E abbandonato la battaglia. Paura, eh. Molto bene, ragazzi. Questi qua erano i due giochi della giornata. Molto veloci. Carini. Giusto per portarvi anche il video. Lo porterò ancora. Molto probabilmente sì. Lo porterò ancora sul canale. Vedremo di battere il nostro record. Io vi ricordo. Se il video vi è piaciuto. Lasciate un like. Se non siete ancora iscritti. Iscrivetevi al canale. Commentate con dei giochini che magari voi fate, che avete, che sono carini da... Oh, minchia. Che botta in faccia che gli ha dato da portare sul canale. Io vi saluto. Ci vediamo in un prossimo video e in una prossima live. Ciao, ciao. Ciao.